Sassi e la storia di Iqbal racconta di ragazzi e bambini che vivono in condizioni durissime e alcune volte muoiono. I nostri inviati per fortuna ci racconteranno storie di speranza. Ci mettiamo in contatto con Anas ed Elena. Dalla regia mi fanno accendere che sono disponibili. Anas, mi sentite? Anas, Elena, dove siete? Sì, Zaccaria, ti sentiamo. Siamo in India. Abbiamo una bellissima storia da raccontarti. Ti passo Elena. Qui la gente vive più accaldata che in qualsiasi altra parte dell'India. Le strade e le piazze rullicano di gente e le cazze sono spiattivate dalla cantina fino sotto i tetti. Tutto odora di persone. Non c'è quasi angolo che non sia popolato. Non c'è pietra. Non c'è pezzetto di terra che non emane odore umano. A lungo ci ha parlato della sua vita, delle sue giornate nella cava a spaccare le pietre, ad aprire il tunnel nel cuore della montagna a respirare polvere. A lungo ci ha parlato dei bambini, dei tanti bambini, amici e non, che ha incontrato e con cui ha condiviso molti momenti. Di una bambina in particolare ci ha parlato Sandor. Di Saina. Saina me la ricordo ancora benissimo. Nella sua gioia. Saina me la ricordo ancora benissimo, però l'ultima immagine di lei mi corre dietro, mi urla nelle orecchie, la sento che tossisce, la vede sputare il sangue rosso dalle pietre grigie. Era contenta ieri, aveva voglia di parlare, ma altro se io lo impediva. Voleva nella bocca parole saporite per raccontare la sua gioia. Sandor ci ha detto una cosa che ci ha molto colpito. È grazie alle parole saporite di Saina che la speranza in lui non ci stava mai. Non è il solo ad avere fiducia nelle parole, ma anche sperare in esse, o meglio rifugiarsi in esse. Anche Amal, corriere fidanzato della mamma, incatta tutti con le sue storie. Poi si spruga in una tasca e ne estrae un libricino verde piccolo, quanto un pacchetto di sigarette, e si mette a leggere ad alta voce, davanti a lei. Le legge come una preghiera, una poesia d'amore. Amal legge, e un sorriso triste gli si impiglia alle labbra. Legge parole saporite, parole inzuppate nel cuore. Ne legge tante, tante, che non basta una vita per gustarle tutte. Ci dispiace che non l'abbiate conosciuto di persona. Al fine è scappato, non abbiamo più nessuna notizia. Ciao, ciao a tutti. Ciao ragazzi. Grazie a Elena e ad Anas, e grazie anche allo scrittore di Sassi, Antonio Ferrara. La prossima storia è la storia di Iqbal, un ragazzo veramente esistito che lavora per la mafia pakistana in una industria di tappeti, insieme ad altri ragazzi. Diamo la parola a Cristiano e a Martina. Via col servizio. Alcuni fra noi hanno incontrato Fatima, una giovane donna pakistana, amica di Iqbal, che può raccontarci la sua storia. La casa dusse in Cannes, il padrone, si trovava alla periferia di Laor, tra la polvere e la campagna bruciata, dove pascolavano le greggi scese dal nord. La fabbrica di tappeti era sotto le lamiere e ci faceva caldo d'estate e freddo d'inverno. Il lavoro cominciava mezz'ora prima dell'alba. In questa brutta casa, un ospietato uomo faceva lavorare molti bambini di diversa età per la lavorazione di tappeti in condizioni di schiavitù. Un giorno fa capolino Iqbal. Iqbal porta con sé un vento di speranza e coraggio. Non dimenticherò mai Iqbal. Era in piedi, accanto al suo posto di lavoro. Dietro di lui c'era il tappeto, quel meraviglioso tappeto di un azzurro che non si era mai visto, con un complicato disegno floreale. Ed era perfetto. Gli stranieri sarebbero impazziti per un tappeto così. Iqbal prese il coltello che usavamo per tagliare le filacce dei nodi. Lo alzò sopra la testa. Ci guardò tutti, uno per uno. Si girò con calma e tagliò il tappeto dall'alto in basso, proprio a metà. Hussein Khan urlò come un maiale ferito. La padrona urlò. Karim urlò perché lui faceva tutto quello che facevano i padroni. Io... Tarek, come ti senti? Tra un po' starai molto meglio. Non ti preoccupare, troverò aiuto. Iqbal la pagherà con la vita il 16 aprile 1995. Gli occhi di Fatima sono diventati lucidi. La commozione era sopraffatta. Ci regala un'ultima perla, forse la più importante di tutte. Prende fuori la borsa e tira fuori una lettera scritta da sua sorella Maria. Poi, un pomeriggio di due settimane fa, hanno bussato alla porta che dà sul nostro giardino. Sulla soglia c'era un ragazzino, tutto sporco e con le caviglie segnate dalla catena. Ha raccontato che lavorava in una tessitura di tappeti e che era scappato e che gli avevano detto che noi l'avremmo aiutato a denunciare il suo padrone. E poi, sai cosa ha detto? Ha detto, io non ho paura. L'ho guardato bene, Fatima. E reqbal, te lo giuro. Era uguale a lui. Aveva i suoi stessi occhi, la sua stessa voce. Non essere triste, Fatima, se puoi. È successo qualcosa che ha cambiato in nostre vite e ci resterà per sempre. Di una cosa solo, ti prego. Non dimenticare niente, neanche il più piccolo e insignificante particolare. Raccontala a qualcuno la nostra storia. Raccontala a tutti, che non se ne perde il ricordo. Solo così Iqbal sarà sempre accanto a noi. Grazie Cristiano. Grazie Martina. Noi abbiamo raccolto i vostri suggerimenti e abbiamo ricordato la storia di Iqbal. Siamo ormai a fine trasmissione e vorremmo proporvi le ultime due storie. Bazar e terza generazione. Bazar è una storia moderna e con un lieto fine. All'inizio è brutta, ma poi... Grazie Sara. La parola ad Alex e Lorenzo. Ragazzi, siamo nel Lake Zone, nella zona conquistata di Diego Armando Falcao. Mai visto una dissimile, mai sentita storia tanto assurda. Andate a Bazar e ve ne renderete conto. Noi ci siamo stati, io Alex e io Lorenzo. Siamo andati a Bazar e Diego Armando Falcao ci ha guidati alla scoperta del quartiere. Diego Armando Falcao è veramente un ragazzo strano. È nato nel nostro stesso anno, alla nostra età, a 13 anni. Ha la madre che proviene dalla pampa argentina e il padre napoletano. E che dire del Terminator, il cui padre senegalese vota per la Lega per integrarsi meglio. Bazar è davvero un posto strano. Neanche a progettarlo, credo, qualcosa sarebbe riuscito a migliorarlo. Si potrebbe definire brutto fuori e bello dentro. All'inizio dei tempi, quando il Bazar si stava formando, era nu poco nu casino. Eh sì, perché c'era gente tutta diversa e ognuno aveva le sue abitudini e il suo modo di vestire e le sue feste e mica ci voleva rinunciare. E tutti litigavano. Quando gli arabi celebravano il Ramadan, per esempio, tutti gli altri dire che puzze, poi non si può dormire tutta la notte per la cacciara che fanno. E voi allora rispondevano agli arabi che ci tenete svegli la notte del 31 dicembre e fatti i botti e buttate la roba vecchia per strada che non si capisce neanche il perché. Ma perché è capodanno, no? Come siete ignoranti rispondevano a quelli. Capodanno è a febbraio, a quel punto si incavolavano i cinesi. Capodanno è a marzo, si sentenziavano. Lo sanno tutti. La gente di Bazar è a Lega. Diego Armando Falcao ne è stato esempio. Ma l'allegria, senza uno straccio di campo da calcio, non si potrebbe reggere a lungo. Fatima Dizze, detta su Gar, questo l'ha già capito già da tempo. Diego Armando Falcao, quando parla di lei, si mostra imbarazzato e allo stesso tempo Fatima ha coraggio. I ragazzi di Bazar proveranno e riusciranno a conquistare la X-Zone, l'unico territorio verde di Bazar e sconfiggeranno i Cressi Dog, il magnate della zona. Prendiamo Ivan e lo usiamo come ariete. Alla terza craniata la palizzata va giù, tutto d'un botto, selevando una nubo di polvere, tarli e segatura. Per la prima volta, dopo vent'anni di ingiusta approvazione, appare l'aereo della X-Zone. A nostre spalle scoppia un boato, un ip ip urrà. Ed eravamo tutti contenti, davvero, orgogliosi. Ce l'avevamo fatta. Ma voi credete che Cressi Dog, il mafioso più ricco di Bazar, non si sia infuriato quando di ritorno dal suo viaggio scoprì che la X-Zone era stata conquistata dai ragazzi per poter giocare a calcio in un campo vero? Certo che lo fece e si infuriò moltissimo, ma alla fine si dovete arrendere. Ma finalmente una bella storia, una bella favola. Ciao ragazzi! Eccoci ancora qui, per avviarci verso la conclusione. Eccoci ancora qui, per avviarci verso la conclusione.